Nuovo appuntamento con i Ten Minutes at Ten, benvenuti in versione forzatamente limitata da tutto quello che sta accadendo con le normative in vigore anti-Covid. Ovviamente i nostri consueti luoghi di elezione per queste chiacchierate, che sono momenti di approfondimento, di confronto soprattutto sui temi di attualità, non possono che essere indisponibili e pertanto siamo qui, ciascuno dalla propria abitazione, come ormai sta diventando consuetudine in questi difficili mesi, ma l'importante è esserci, l'importante è confrontarsi, l'importante è poter avere con noi oggi Ten Minutes at Ten, lo ringraziamo in modo particolare. Davide Giacalone, caro Davide, ben ritrovato. Ben trovati, anche in questo modo, l'importante è riuscire a rimanere in contatto. Sempre, tra l'altro noi prendiamo la palla al balzo della tua ultima fatica, per la quale ti sei anche divertito un pochino a giocare con il periodo e il titolo, perché, addio mascherine, magari, facci aggiungere subito. Però, ecco, partiamo da qui, poi entriamo più nello specifico, dei tanti temi che tu metti a nostra disposizione con le tue riflessioni. Al di là dell'auspicio ci mancherebbe. In realtà, il titolo richiama sì a questi mesi, a cui facevamo riferimento, ma poi lo svolgimento del libro ci porta molto indietro nel tempo e, soprattutto, ci auguriamo in un futuro che sia diverso dai presupposti che, attenzione, noi stessi, Davide, ci eravamo creati in questo paese a gennaio del 2020, prima che precipitassimo in questo incubo collettivo. È corretta questa lettura del titolo e del succo del libro. No, no, è correttissimo. Le mascherine di cui al titolo, ma del resto anche, diciamo così, alle immagini di copertina, è relativo all'ultimo capitolo del libro di Collodi, Pinocchio. Quando Pinocchio, che torna sulla terra dopo la balena, il geppetto ormai è sfinito, incontra il gatto e la volpe e loro si ripropongono e gli chiedono aiuto, perché a quel punto sono in disgrazia, e lui gli dice addio mascherine, l'Italia è un paese forte, però bisogna anche dire addio mascherine come fece Pinocchio, cioè non continuare a credere sempre nelle stesse illusioni, commettere sempre gli stessi errori. Vale anche per il periodo di pandemia. Non possiamo sprecarci tutto e sparare tutte le munizioni per accudire i guai della pandemia. Questo è un paese, ripeto, forte. In questi anni, le nostre esportazioni, con l'Italia che compete è andate all'astra grande. Se guardi però l'Italia nel suo insieme, a gennaio del 2020, quindi pre-pandemia, eravamo il paese che cresceva di meno, con sulle spalle il più alto debito pubblico, anche in percentuale del prodotto interno lordo, se si fa eccezione solo della Grecia. Noi dobbiamo dismettere le nostre vecchie credenze, abitudini, tic. Tutto questo lo facciamo perché gli italiani si raccontano da anni che vogliono cambiare. Balle! Noi continuiamo ad accumulare debiti inutili, a fare spese che non dovremmo fare, sperando disperatamente di non cambiare. Poi si crede sempre all'ultimo imbonitore che dice con me non mi preoccupate, ci saranno più posti nella pubblica amministrazione, salvaguarderemo quello, salvaguarderemo quell'altro. E quelli che cambiamo sono gli imbonitori che promettono l'impossibile. Chiaro che in queste condizioni ci facciamo del male. Tra l'altro, permettimi di aggiungere, non l'ho fatto prima, me ne scuso, è edito da Rubettino, Addio Mascherine, il tuo libro che da poche settimane è in libreria. Davide, questa Italia, allora questa Italia semicongelata, semifrizzata economicamente parlando, ma non solo, ahimè, dobbiamo dire anche mentalmente ormai, anzi ti chiedo proprio questo, mentalmente ormai da mesi, esclusivamente concentrata solo sull'aggredire l'emergenza. Se è possibile gestirla, è come se vivessimo, non dico la giornata, non voglio essere troppo cattivo, ma con una prospettiva, quando va bene, a 30 giorni. Quanto è pericoloso questo atteggiamento? È pericolosissimo, è pericolosissimo. Del resto, questo atteggiamento, che è molto diffuso, che ha una radice profonda nell'opinione pubblica, finisce col produrre classi dirigenti, o su Adi Sant'Ali, che hanno un orizzonte altrettanto limitatissimo, cioè che si proietta al massimo sulle prossime elezioni, fosse anche amministrative, cioè abbiamo appena messo alle spalle regionali, e già si dice, eh ma la prova sarà Roma e Milano. Ho capito, ma così ogni campanile che vota diventa sempre l'attesa, l'attesa, e poi dopo Roma e Milano cosa ci sarà? A un certo punto si faranno le politiche. Ma che serve tutto questo? Cioè, prendiamo le cose vere, la scuola, l'assenza di didattica digitale, che non è la didattica a distanza fatta per emergenza, con l'acqua alla gola perché devi chiudere le classi. C'è una ricetta di destra e di sinistra, di sopra e di sotto? Ma io credo che se persone ragionevoli le metti a lavorare, un po', esisteranno certamente, esistono diversità di opinioni, ma mica così abissali, la pubblica amministrazione. Noi siamo il paese che continua a dire l'Europa, l'Europa quanti soldi ci dà? E siamo il paese che utilizza di meno i fondi europei. Perché? Perché la burocrazia li blocca. Ho capito, ma questa burocrazia di cui sento parlare praticamente da quando sono nato, chi l'ha creata? Come l'abbiamo creata? È una forma di de-responsabilizzazione. Se al funzionario che firma gli fai avere l'avviso di garanzia, quello non firma. Dice, ma così si batte la corruzione. No, perché naturalmente si firmerà solo quello che poi magari ha un rapporto illecito. Esiste davvero una teoria e un'ideologia di destra e di sinistra su come far funzionare la pubblica amministrazione? Ma su via, non prendiamoci in giro. ma voler negare a ciascuno il potere, la possibilità al preside di scegliere i docenti che devono andare in classe e quindi esserne responsabili naturalmente. Voler negare tutto questo finisce col metterci sempre su un orizzonte bassissimo, velocissimo, che riguarda domani e dobbiamo sempre naturalmente fare immediatamente fronte a qualche emergenza. è stato il terremoto e crollato la casa. Oddio, oddio, bisogna mettere la gente da qualche parte e poi dopo dieci anni dici ma le avete rifatte le case? No, perché sai era finita l'emergenza, un tetto gliel'avevamo dato in qualche modo. Questa Italia qui si fa del male, però intendiamoci c'è anche un'altra Italia che sa di non poter fare affidamento su nessuno, che si imbocca le maniche, che compete nel mondo, ma fa numeri straordinari, fa numeri impressionanti, sono cose, sono favolose in tutto il mondo se tu dici Italia ti dicono che Italia è benessere, prodotto di alta qualità, capacità di competere. Se dici Italia in Italia dici sì, no, non ce la faremo mai. E questa è la nostra dannazione. È come se la prima Italia di cui hai appena parlato non riconoscesse, anzi, persino avesse in uggia, come si dice, quell'altra, quella che compete, quella che non aspetta, quella che non si mette sulla riva del fiume, ad aspettare non il cadavere, ma il sussidio, che poi magari può generare solo cadaveri economici, ma insomma non è cedibile. Anzi, glielo vuole fare pagare. Esatto. Tu che hai avuto fortuna, si vede solamente in video, tu che hai potuto avere successo, devi aiutare gli ultimi, cioè paga, che poi in una società che funziona, ma è chiaro che chi è andato avanti aiuta chi è rimasto indietro, ma come? Aiutandolo a farsi avanti, dandogli la scuola, dandogli strutture, dandogli comunicazione, sistemi di questo tipo che funzionano. Queste sono le cose che devi dare. Se gli dai la mancetta per rimanere fermo, quello fermo resterà e rimanerebbe più indietro appuntando l'aese, portandola a fondo. A proposito di questo aspetto, noi siamo ospiti idealmente, lo dicevamo in apertura, perché non si può fare in altro modo, di un gruppo che è impegnato anche, per esempio, nella ristorazione, uno dei settori più pesantemente colpiti. Questa è una fase in cui noi sentiamo parlare solo di ristori. Ok, è un concetto persino nobile, intendiamoci, ma quando parleremo un pochino di prospettive di sviluppo, quindi di investimenti? Dovremmo averne già cominciato a parlare perché ci sarebbero da fare i programmi per Next Generation che il governo fin qui tiene riservati. Guarda, che in quella riservatezza c'è una delle chiavi del dramma italiano. In fondo, forse non hanno neanche tutti i torti. Perché le tengono riservate? Perché se aprissimo quelle carte tutti vorrebbero qualche cosa. Ho capito, ma tu governi, dici, sentite, quello che per me è più importante è questo e poi ci possono, ripeto, anche su questo esserci diversità d'opinione, ma dici, no, preferisco tenere tutto segreto in modo tale che non parte l'assalto alla dirigenza. Sì, ma in questo mondo non partono nemmeno gli investimenti. L'indecisione di questi mesi è terrificante dal punto di vista della programmazione degli investimenti. Ciascuno di noi, da chi deve programmare un viaggio a casa a vedere i parenti, da chi invece deve programmare un investimento, nell'indecisione sta fermo. E poi, sì, noi siamo ospiti di un gruppo che, se non sbaglio, è anche impegnato nella moltiplicazione di centri di ristoro, intesi come ristoranti, no? Beh, poi, se io ti dico pizza, tu a cosa pensi? Pensi probabilmente a Napoli, pensi comunque a una cucina italiana. Se io ti dico gelato, tu pensi, mi chiede a me, ah, il gelato italiano. italiana. Sì, le multinazionali della pizza e del gelato non sono italiane. Ma perché se uno si mette a costruire una cosa per fare una multinazionale, gliela fanno pagare, glielo rendono impossibile. Alla fine gli dicono, senti, fai una cosa, fai una società lussemburghese, travesti da olandese, perché se no, non ce la fai. Il risultato è che non c'è alcun dubbio che la nostra pizza che mangi una qualsiasi pizzeria italiana è più buona della pizza della multinazionale, di cui non cito il nome, ma tanto l'avete capito tutti perché c'è pizza nel nome. Il gelato olandese è freddo, ma non è il nostro gelato. Ho capito, però la quantità di quattrini che macino nelle multinazionali che creano lavoro, che creano cultura, che creano gusto per la miseria, il nostro è più buono, ma il gusto è quello degli altri, è una sconfitta italiana. Dovremmo insollecitargli, dovremmo dirgli guardi, le faccio chiudere il ristorante se non impara a standardizzare i piatti e ha riuscito a riprodurli nel mondo. Invece noi gli diciamo guardi, lo faccia qui, in quest'angolo, vengo anche volentieri, però non lo faccia sapere in giro se non le copiano i piatti. Questo è il disastro italiano. Il concetto di standardizzazione in Italia, lo rifaccio il concetto di standardizzazione in Italia e spesso anche a livello imprenditoriale è in noi completamente ignoto, è uno dei mille per cui facciamo fatica, spendiamo troppo per far ciò che potremmo ottenere spendendo molto meno. Addio mascherine, edito da Rubettino di Davide Giacalone, è un viaggio nelle nostre anche manie, ok? Nelle nostre tic, che però si possono, lo avete sentito in questi 10 minutes e 10, si possono abbattere, come sempre sta a noi. Davide Giacalone, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo in pizzeria, naturalmente concludendo col gelato, e a presto, ci vediamo a presto. Aspetta, rifammi perché sei saltato sulla pizzeria che mi piace, ci vediamo in pizzeria, è bellissimo, vai. Grazie, grazie mille, ci vediamo in pizzeria, concludendo col gelato, ci vediamo al ristorante, lo internazionalizziamo, intanto un saluto a tutti quanti. Perfetto. Ovviamente che loro non hanno la pizzeria. No, no, hanno anche la pizzeria. Hanno anche la pizzeria. No, ma poi il concetto, ma poi chi se ne fai?